In Vesti Scuola, dopo la proposta del PD per salvare la misura che aiuta gli studenti che contempla il coinvolgimento della regione, arriva la risposta della Lega, quando il PD cita regioni diverse dal Veneto, tra cui l'Emilia Romagna, che finanziano strumenti simili a questo, dimenticano che lì si applica l'addizionale regionale IRPEF che il Veneto non applica, commenta l'assessore regionale Giampaolo Bottacin, significa che il Veneto lascia nelle tasche di ogni cittadino 200 euro all'anno che invece l'Emilia Romagna non lascia e quindi per una famiglia di 4 persone si tratta di 800 euro, per cui è meglio lasciare 800 euro alle famiglie o prelevare 800 euro e dare un contributo di 150, gli fa ecco il segretario provinciale della Lega Andrea De Bernardin. Se ci ricordiamo bene, nel momento in cui c'era una giunta a guida Lega centrodestra in provincia, in provincia era il momento dei grandi tagli statali, alle province subito dopo è arrivata la famigerata legge del Rio, ricordo che uno dei grandi sostenitori era proprio quel Roger De Menek nominato nell'articolo del PD e uno di quelli che applaudevano è l'attuale presidente della provincia Padrin. Mi viene da dire che prendendo altre regioni bisognerebbe capire come sono stati spesi i soldi in passato, andare a vedere anche sulla difesa idrogeologica per esempio. Io credo che l'unico studente sia stata una bella cosa. Infine una considerazione sul fondo comune di confine potrebbe in parte essere dedicato all'unico studenti, si chiede De Bernardin. Io credo di sì, ma serve allora aprire un confronto con Trento e con il comitato paritetico? In quanto sindaco di un comune della parte alta della provincia conosco e vivo i disagi delle terre alte, quindi approvo dal punto di vista teorico l'idea all'intento, ma trovo del tutto fuorvianti e inutili le polemiche sollevate dal PD. La sua conclusione.